ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come modificare la cartella sizestem32 come avere il permesso il controllo completo per modificare quella cartella ogni tanto ti chiede di essere amministratore però per risolvere questo problema andiamo un attimo nelle nostre cartelle questo pc nella cartella di windows scendiamo fino a giù fino a trovare sizestem32 proprietà andiamo sulla sicurezza e andiamo su amministratore oppure amministratore questo perché io ne ho due diciamo che io ho il controllo completo del mio pc e c'è solamente il mio nome questo qua è da rimuovere ed eccolo qua cliccate sul vostro admin se per esempio siete amministratori e non vi da proprio il controllo completo andiamo su avanzate e qui c'è il proprietario di sizestem32 quindi io vado su cambia da questo percorso il mio nome TonyGamer17 mettete il nome del vostro pc se non riuscite a trovare il nome del vostro pc andate su percorsi anzi su avanzate qua sotto trova e come puoi vedere qua sotto ci sono tutti i vostri nomi collegati a ogni singola cartella processo utente qualsiasi cosa e questo sono io amministratore ci clicco due volte sopra faccio ok adesso il proprietario è admin TonyGamer17 slash administrator questo e ho fatto così poi sostituisci proprietario per sotto contenitori e oggetti facciamo applica a metà errori perché io già sono amministratore non mi da neanche ok sta caricando un paio di cose poi si blocca fino a questo punto perché non me lo fa fare più perché io già sono amministratore di questa cartella quindi chiudiamo tutto ora andiamo su modifica e come puoi vedere io adesso clicco di nuovo su quell'amministratore TonyGamer17 eccolo qua prima a me non me lo faceva mettere le spunte adesso se metti tutte queste spunte facciamo così applica facciamo sì se in questo caso da questi errori tu fai annulla metto applica faccio sì fa sempre questo errore continua annullo tutto chiudo qua chiudo di nuovo qua si chiudi tutto adesso vi faccio vedere anche se mettete quelle spunte vi esce quell'errore avete lo stesso il controllo completo proprietà sicurezza sempre su amministratore TonyGamer17 il mio modifica e come puoi vedere la spunta l'ha messa prima a me non c'era questo controllo completo e modifica adesso ci sono e posso modificare quindi io ti consiglio di riguardare di nuovo la guida oppure di mettere la velocità di riproduzione tipo 0.75 sì ho parlato velocemente però il metodo è questo dovrei anche rimuovere questo qua perché sono due una copia questa è tanto per fare un esempio quindi ora vediamo un po' se posso modificare questa cartella provo a mettere un file dentro la cartella sinstem32 ok prendo questo file di microsoft directx dll e lo metto nella cartella anzi lo metto in sinstem32 così sostituisci file nella destinazione e come puoi vedere ho modificato la cartella e posso mettere i miei file quindi se questo video ti è stato utilissimo io ti consiglio di iscriverti al canale di attivare la campanina e di lasciare un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao